Disabilità e benessere a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile. Buonasera a tutti e bentornati a Disabilità e Benessere. Questa sera affronterò con voi il tema delle neuroscienze. Sul filone di settimana scorsa dei Disability Studies, quindi degli studi accademici che vengono fatti sulla percezione della disabilità partendo dalla voce stessa delle persone disabili, oggi parliamo delle neuroscienze appunto che sono lo studio scientifico del sistema nervoso. Affronto questi temi per cercare di creare dibattito perché mi sembra corretto dar voce soprattutto alle persone con disabilità. Oggi se andiamo sui social, su Facebook, Instagram, si possono trovare tantissime pagine di ragazzi disabili che nelle loro storie giornaliere ci raccontano la vita assolutamente condivisibile e i problemi che hanno loro che sono esattamente identici ai nostri. E quindi mi sembra sempre più che questa diversità debba essere in qualche modo normalizzata, se si possono usare queste parole e mi permetto di usarle perché gli studi, non solo i Disability Studies ma anche gli studi all'interno delle neuroscienze sono portati avanti molto spesso da persone appunto che hanno delle difficoltà quindi o difficoltà comportamentali e relazionali oppure che hanno appunto delle disabilità perché il mondo cognitivo è assolutamente identico agli altri e quindi bisogna cercare di trovare quali sono le cose non che diversificano ma le cose che uniscono. In questa concezione, il discorso che sto facendo in queste puntate, vuole cercare non di normalizzare ma di creare una convivenza con le persone che hanno delle caratteristiche diverse da noi. Questo deve essere alla base di una società moderna e alla base di una società civile. Il fondamento delle neuroscienze è un po' alla base anche delle nuove idee aziendali, delle nuove idee scolastiche per quanto riguarda l'inclusione che non deve essere più solamente dettata da dei numeri quindi massimo in una classe ci possono stare quattro ragazzini disabili o le aziende hanno la disponibilità di assumere una percentuale di persone con disabilità ma si sta più cercando di andare verso una società multifattoriale quindi una società che indipendentemente da quante persone assunte ho che hanno una disabilità fisica o intellettiva l'azienda produce e va avanti indipendentemente da quanti ragazzini con difficoltà ho in classe la maestra può continuare a fare la sua lezione. Ecco questo è il senso delle puntate che vi sto proponendo in questi giorni. naturalmente questi studi sia i disability study che le neuroscienze sono fatte proprio per creare dibattito cioè per mettere sul piatto quali sono le grosse alternative che ci sono oggi nel mondo e quindi non è una mia verità assoluta ma è appunto una visione del dibattito per quanto riguarda le disabilità. Allora le neuroscienze quindi sono lo studio scientifico del sistema nervoso hanno origini nella storia dall'antica Roma quindi da Galeno, il primo medico che scoprì l'esistenza del cervello nell'essere umano fino poi più recentemente agli studi di Golgi che scoprì che il cervello era formato da questo reticolato fatto di neuroni. Le sinapsi poi neuronali come le sinapsi vengono coinvolti nelle stimolazioni sono state poi alla base di studi di medicina per quanto riguarda la neurologia. Le neuroscienze quindi è uno studio interdisciplinare perché coinvolge non solo la medicina ma anche la biologia, la fisica, la psicologia e tutte quelle discipline che appunto studiano in qualche modo il cervello. Da un punto di vista pratico, tecnico possiamo vedere le attività cerebrali oggi grazie a delle tecniche di imaging innovative come per esempio la PET o la risonanza magnetica funzionale che durante lo stimolazione o il compimento di alcune funzioni specifiche vengono delineate il funzionamento del cervello. Quindi le neuroscienze servono proprio a studiare il cervello. Le neuroscienze sono anch'esse poi divise in più discipline perché naturalmente ci sono le neuroscienze che si occupano in tutto l'ambito matematico quindi le neuroscienze invece che si occupano più del campo cognitivo quelle più del campo affettivo eccetera. Poi dopo vi darò tutti i riferimenti che trovate su Google e su internet per andare a vedere un po' quali sono i termini di questo dibattito e di questi studi e anche un po' alcune voci un po' fuori dal coro proprio per vedere un po' il dibattito che c'è dietro queste neuroscienze che comunque stanno appassionando e stanno diventando sempre più importanti. non per ultimo, di qualche giorno fa, un gruppo di neuroscienziati che è stato ricevuto alla Camera dal Premier Conte. Allora oggi io vi parlo naturalmente per vicinanza un po' al tema, a me caro, dell'autismo ma in generale a tutte le diversità cognitive e relazionali. vi parlo un po' delle neuroscienze cognitive e delle neuroscienze affettive. La tessera senza barco significa, consapevolezza di non essere tutti uguali, ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare, e un'associazione per promuovere il talento. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi, e uno sconto particolare nei corsi con contributo organizzato dall'Hub Senza Barco. Un canale preferenziale nella nostra collana editoriale e la partecipazione sempre gratuita alla rassegna letteraria 6 Senza Barco. Sono tante altre le attività ed è per questo che invito all'iscrizione visitando il sito associazione.senzabarcode.it Per informazioni scrivere a info-senzabarcode.it Che cosa dicono? Praticamente raccontano come avvengono i processi mentali e cognitivi, soprattutto come la memoria e l'attenzione. Cosa succede? Che molto spesso le funzioni cognitive, e quindi quando si dice che una persona, un ragazzino, abbia delle difficoltà cognitivo di apprendimento, ci si riferisce soprattutto all'attenzione e alla memoria che ha, quindi a quanto riesce a stare attento in classe e a quanto riesce a memorizzare una serie di dati. Capite quindi che anche la didattica viene sempre espressa in un modo normalizzante, cioè bisogna tutti raggiungere questi scopi. Il focus quindi delle neuroscienze è cercare di dare delle alternative. Cosa dice, cosa studiano le neuroscienze cognitive? Studiano appunto i processi psicologici che ci possono essere anche alla base di un discorso esecutivo e quindi di memorizzazione o di attenzione. E a questo proposito io vi consiglio vivamente di seguire la pagina di Fabrizio Acanfora, che è un musicista e scrittore che nel 2019 ha preso il premio come scrittore più innovativo proprio perché ha pubblicato il libro eccentrico dove racconta la sua esperienza in prima persona dato che lui è un ragazzo asperger di come vive il suo autismo e racconta proprio tra le pagine del libro come lui avesse molto spesso da piccolo la capacità di perdersi ma si perdeva in qualsiasi modo, non solo fisicamente, quindi non trovava più le strade che doveva fare ma anche a viaggiare con la mente, a perdersi nei pensieri e quindi in classe risultare poco efficiente perché spesso veniva catturato da un uccellino fuori sul ramo e perdeva tutta la lezione. E colui cosa dice? Che si è accorto che non è tanto una mancanza di memoria o di attenzione è il fatto di essere sviati da qualcosa di più interessante quindi ha capito che il focus è l'interesse. Cioè se si va ad agire sull'interesse che una persona ha come peculiare si possono ottenere enormi risultati infatti proprio le aziende che stanno studiando all'interno delle loro risorse umane l'importanza e la capacità anche da un punto di vista numerico di produrre diciamo di produzione di un'azienda la capacità che può avere una persona che andando a concentrarsi sul proprio interesse si riesce a stimolare in lui una capacità produttiva maggiore si stanno appunto interessando molto di queste neuroscienze proprio per questo motivo e la sua capacità diciamo di riuscire a trovare qualcosa che lo interessasse per riuscire poi a focalizzarsi e a portare a termine diciamo l'obiettivo che si era prefessato quindi andare a casa dell'amica Luisa riusciva ad ottenerlo quindi non è neanche come per anni siamo stati cioè è stato indicato dai medici, neurosichiatri non è neanche tanto fare il diario della giornata devo fare questo, devo fare quello perché anche se io so cosa devo fare ma vengo poi distratto da qualcosa di mio interesse anche l'obiettivo va a disintegrarsi quindi le neuroscienze cognitive stanno un po' studiando tutte queste implicazioni quindi biologiche appunto fisiche e mediche che stanno dietro a questi cervelli iper funzionali si è sempre detto che il cervello autistico avesse una diversa funzionalità in realtà sta venendo fuori proprio che hanno un'iper funzionalità cioè che funzionano troppo quindi sono cervelli come dicevo io appunto nel libro di un'evoluzione 2.0 quindi avanti di noi e per questo facciamo un po' fatica a gestirli un'altra parte delle neuroscienze che ha colpito il mio interesse naturalmente sono le neuroscienze affettive che sono tutte quelle neuroscienze che si occupano di studiare i meccanismi neuronali cerebrali che si attivano all'insorgenza dei processi emotivi affettivi molto spesso si pensa che le persone affette da autismo o anche da altre diversità tipo ADHD insomma le difficoltà di apprendimento e di attenzione siano legati a una poca empatia con il resto degli amici con i compagni e quindi che si possono permettere di fare delle scenate di scoppiare a piangere perché tanto dell'amicizia dei suoi compagni non gliene frega niente quindi è gente anche che magari dice ma sì qua mi metto a urlare tanto se i miei amici poi non mi rivolgono più la parola perché si vergognano di me non me ne frega niente quindi comunque alla base si pensa sempre che ci sia della mancanza di empatia questo scusate l'iscursus fa parte anche un po' però ne parlerò magari meglio in altre puntate un po' della sindrome depressiva anche qua si pensa che le persone a certo punto perdono l'interesse verso le cose non è proprio così quindi le neuroscienze affettive appunto cercano di studiare quali possano essere queste correlazioni in questo momento le neuroscienze affettive stanno studiando i meccanismi solo sugli animali e quindi questo naturalmente deve essere poi visto effettivamente sugli umani però sappiamo benissimo che diciamo una parte biologica è assolutamente identica identica anche una parte neuronale proprio basica è molto simile per cui lo studio che sta alla base di queste neuroscienze affettive è proprio legata all'insorgenza delle diverse tipi di relazioni e motivazioni che vengono fuori laddove viene stimolata la parte appunto la parte emozionale tutti questi temi e questi racconti che vi ho detto li potete trovare appunto digitando su google neuroscienze ma in particolare andando sul sito indiscreto.org dove si parla proprio anche con Fabrizio Acanfora di questi temi quindi la teoria del mondo intenso e poi appunto vi indico anche il sito di Fabrizio Acanfora che è fabriziocanfora.eu e un po' il suo tema appunto del perdersi della perdita di attenzione che molto spesso gli capita di avere trovate anche degli articoli molto teneri che lui rivolge non solo ad altre persone autistiche ma anche ai propri genitori e alle persone che collaborano con lui che fa capire quindi come non solo non si è affetto da mancanza di empatia ma anzi abbia un grosso amore e un grosso trasporto verso le persone che comunque hanno a che fare con lui e in qualche modo lo devono sopportare e supportare spero di essere stata abbastanza rapida e avervi fatto capire qual è il tema dello studio delle neuroscienze e vi lascio sempre la mia mail disabilità e benessere a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile